Un saluto a tutti cari amici e benvenuti sul mio canale. Passiamo alla finale dello Spiccia Championship tra Firuja e Magnus Karzin che finale finirà con un risultato veramente sorprendente, almeno a me ha sorpreso molto, ma ne parleremo alla fine. E allora per far veloce, intanto prima di iniziare lasciatemi salutare e ringraziare Mario, nuovo abbonato alle mie video edizioni. Vi ricordo che è una libreria che trovate qui sul canale YouTube, che cresce mese dopo mese, conta già più di 35 ore di video, tutti subito disponibili per voi a soli 2,99€ al mese. E allora vi aspetto sempre più numerosi. Iniziamo, like al video e vediamo cosa è successo in questa partita molto molto strategica. Perché Firuja di bianco apre con D4, Karzin risponde con cavallo in F6, arriva cavallo in C3 e dopo la spinta in D5 con Alfieri in F4, se non sbaglio siamo in una variante conosciuta come variante Cigurin. E allora, come contro il sistema di Londra, Karzin spinge in C5, qui naturalmente catturare per il bianco sarebbe disastroso. Naturalmente non l'ha fatto Firuja, perché c'è la spinta D4 che spinge il re indietro e qui, guardate, E6 apre l'attacco del... Addirittura il cavallo in C6 prima, poi E6, insomma, addirittura poi col cavallo dopo che si ricattura si può spingere in E5, insomma, posizione già molto complicata per il bianco. Allora dopo C5 Firuja gioca E3, mossa migliore oltretutto con l'alfiere già fuori dalla catena pedonale. E allora Karzin cambia al centro, C per D4, il pedone ricattura come nella slava di cambio, A6, mossa importantissima per il controllo della casa B5, arriva cavallo in F3, sviluppo di Karzin del cavallo in C6, cavallo in E5. Adesso attenzione perché l'alfiere in D7 è la mossa più giocata, ma Karzin il suo alfiere se lo vuol tenere al sicuro e gioca E6. E allora il bianco di solito cambia, ma qui arriva G3, una mossa molto rara per piazzare l'alfiere in fianchetto. Pensate, dopo 8 mosse sono rimaste solo 8 partite in database, di queste 8, 3 giocate proprio da Firuja di bianco contro Lasavik lo scorso anno, 3 partite, 3 vittorie. E allora Karzin come Lasavik sviluppa l'alfiere in D6, alfiere in G2, arrocco corto per il nero, arrocco corto anche per il bianco. Donna in C7, terzo attacco sul cavallo, che viene difeso centralizzando la torre in E1 e allora arriva B5. E qui siamo al momento della svolta perché sono rimaste in database solo le 3 partite di Firuja che contro Lasavik aveva giocato A4, stavolta per uscire da quelle linee che Karzin sicuramente avrà studiato, gioca A3. E questa è la novità che rende la partita originale. E allora Karzin piazza l'alfiere in fianchetto, alfiere in B7, vedete come il nero ha già connesso le torri, arriva H4. Torre in A che va in C8, cavallo in A2. Non è che sia un granché, certo, si vuole chiudere la colonna C giocando C3. E allora Karzin, pensate, dà via la coppia, alfiere per cavallo in E5, il pedone di ricattura, cavallo sotto attacco, torna in D7. E allora senza il cavallo che protegge l'arrocco, guardate, Firuja porta la donna in attacco sul lato di Re, donna in H5, cavallo in E7, scopre l'attacco sul pedone C2, e allora arriva C3, e qui una scelta molto particolare di Karzin. Guardate, gioca D4. L'idea, naturalmente, è quella di cambiare gli alfieri campo chiaro. Cosa dovrebbe fare Firuja? Dovrebbe cambiare subito lui al centro, ma l'apertura della colonna C gli fa paura. E allora cambia lui gli alfieri per non scoprire il Re. Alfiere per alfieri in B7, la donna ricattura di nuovo, ci vorrebbe questo cambio. E invece Firuja gioca torre in A che va in D1. Allora cavallo in F5, solo adesso C per D4. Ma qui arriva il cavallo in B6, guardate bello, guardate bello, vuole andare sull'avamposto in C4. Firuja gioca cavallo in C3, centralizzazione anche della seconda torre. Allora il cavallo è due, scusatemi, il pedone è due volte sotto attacco. Firuja sposta il cavallo in E4. Carlsen il pedone lo vince, cavallo per pedone, ma qui ci dobbiamo chiedere, come mai, perché il cavallo non controlla più questa casa D6, come mai Firuja non ha giocato il doppio di cavallo? Perché guardate che posizione micidiale. Se cavallo in D6 non giocata in partita, la torre si sacrifica sul cavallo, sacrificio di qualità, il pedone ricattura. Cavallo in F3 con scacco, rivencerà come minimo la qualità. Re in F1, e guardate strano, G6 attacca la donna e la mette fondamentalmente un po' fuori gioco. Donna in H6, torre in C2 prima di cambiare. E poi ci sono delle minacce micidiali, non c'è il controgioco del bianco, perché anche il cavallo controlla la casa D7. Veramente una roba bestiale. Guardate che torre. E allora ritorniamo a noi, e allora per questo motivo Firuja gioca torre in D3, e allora il cavallo torna indietro in F5, la torre è sotto attacco. Donna in F3 non solo la protegge, ma minaccia di vincere la donna con cavallo in F6 con scacco. E allora Carse, la donna la porta in A8 dove è protetta. Alfiere in G5 attacca la torre, e allora torre per torre in D3. La donna ricattura, e col vantaggio di un pedoncino. Carse cerca di cambiare le donne. E pensate, e pensate, anzi, qui il pedoncino ancora in vantaggio non ce l'ha. E pensate, gli converrebbe a Firuja cambiare le donne. Ma lui, il cambio non lo vuole fare, sposta questa donna in F3, ma guardate che succede. Probabilmente l'idea qui era di centralizzare la torre e prendere l'iniziativa. Purtroppo l'iniziativa con cavallo in C4 la prende Carse. E allora che si fa? Torre in C1, inchioda il cavallo sulla torre. Naturalmente torre in C6 è buonissima. H6 attacca l'alfiere. Alfiere in F4. Cavallo in D4 non solo attacca la donna. Mina, se la donna, quando si sposta, non protegge più la casa E2, c'è anche il doppio di cavallo. E allora donna in D3 si sposta dall'attacco e controlla E2. Torre in D8 schioda il cavallo e arriva. B3. Purtroppo questo attacco al cavallo non serve a niente. Perché Carse vince il pedone centrale. Cavallo per pedone, l'alfiere ricattura, la donna si riprende il pezzo e Carse ha un pedone di vantaggio. E allora torre in C5 di Firuja attacca la donna. Ma guardate, interessantissimo, Carse torna indietro con la donna in B8. Donna in E3 si toglie dalla diagonale della torre e arriva. Donna in B7. Arriva anche B4. E guardate, questo cavallo torna sempre indietro in F5. Attacca la donna, apre la colonna della torre. Donna in F3. Ma qui arriva donna in D7. Per l'invasione e per cambiare tutto. E allora Firuja gioca G4. E sinceramente non so se è un vero e proprio errore di Firuja o voleva tentare qualcosa sul lato di Re. Tant'è che Carse cattura il pedone in H4 attaccando la donna. E dopo donna in G3 che attacca il cavallo. Il cavallo non può più tornare indietro in F5. Cosa sarebbe successo? Cosa sarebbe successo se il cavallo fosse tornato in G6? Dopo cavallo in G6 non giocata da Carse. Certo è che il nero rimane con un grandissimo vantaggio. Torre in C1 naturalmente per evitare lo scacco. E poi probabilmente la spinta G5 con la cattura di cavallo. Non so se l'idea era quella di attaccare con donna e cavallo il lato di Re. Tant'è che dopo donna in G3 Carse lascia il cavallo in presa perché arriva donna in D1 con scacco. Re in H2 mossa unica e con l'aiuto della donna cavallo in F3 arriva con scacco. Re in G2 arriva il micidiale scacco da dietro. Donna in G1 con scacco. E' vero che si perde il cavallo perché il Re cattura il cavallo in F3. Torre in D3 con scacco. Il Re è costretto a spostarsi. Pensate incredibilmente Magnus Carzen così focalizzato sul vincere la donna che manca il matto in 1. Donna in D1 scacco matto. Torre per donna. Ma anche in questa posizione Firucio abbandona comunque perché dopo cavallo in G3 naturalmente la donna si sposta. E qui non si riesce a tenere niente. E' quasi meno 6. Magnus Carzen vincerà questa finale con un punteggio storico. Con il punteggio di 23,5 a 7,5. Che è la più alta differenza di punteggio in finale da quando è nato lo Spiccia e Championship. Veramente un campione pazzesco. Io spero che la partita vi sia piaciuta. Mi raccomando ricordatevi che domani iniziano le Olimpiadi. E sarà uno spettacolo veramente fantastico. E allora se non siete ancora iscritti al canale e vi piacciono i miei contenuti iscrivetevi subito per guardare con me tutti i migliori tornei. Io come al solito vi ringrazio tantissimo per l'ascolto. E noi ci vediamo giovedì con un nuovo video. A presto! Grazie. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti